Forse è atterrato in maniera regolare dice il direttore di gara, poi Martignaco per Dumbia, Dumbia il pallonetto e il gol di Dumbia che sblocca il match al tredicesimo minuto di gioco, un tocco morbidissimo, quello di Issa Dumbia per il vantaggio dell'Albino Leffe. Protesta qui la pergolettese per il contatto, ma Dumbia è Arini a monte di quest'azione, l'arbitro non ha fischiato il gioco proseguito, Dumbia è arrivato davanti a Galeotti con lo scavetto, ha battuto il portiere in uscita e il vantaggio dell'Albino Leffe.